Ciao, sono Valentina Sanguigni e amministro da oltre 15 anni Dental Campus. L'azienda è cresciuta tantissimo negli anni e questo è stato possibile grazie a preziose collaborazioni con docenti di fama internazionale e a progetti che abbiamo coordinato in tutto il territorio italiano. Ad oggi l'azienda organizza ben 150 corsi, molti dei quali sono sviluppati nella nostra sede di Ancona. Il centro corsi rappresenta la vera anima dell'azienda, da qui progettiamo tutte le attività formative. La struttura si è evoluta negli anni seguendo quelle che sono state le evoluzioni tecnologiche e i nuovi trend formativi. L'introduzione dell'ambulatorio odontoiatrico con i tre riuniti offre oggi al corsista una formazione che difficilmente troverà altrove. E ne siamo così certi che vorremmo invitarvi a casa nostra. Abbiamo pensato ad un incentivo che vada oltre le parole. Vi aspettiamo ad Ancona.